C'ho un po' d'appetito, la fama l'uomo stasera, una bella cenetta gustosa e succolenta. Mi ordini. Antipasto, caviale e salmone, poi un bel consumo è ristretto, molto ristretto, dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, un po' un uovo, un po' un uovo, un po' un uovo, un po' un uovo, un uovo, un uovo va. Oh Battista, dimmi un po', dimmi la verità, appisci, come stiamo. Eh, male, eh, lo so. E sa, non è stagione. E' temporale, eccetera, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo? Capite, pollo, patatine fitte, con due patatine fitte, pizzetti di stagione. Pone. E' formaggio, eh? Come formaggio? Gruyere. Gruyere, autentica, autentica, vizzeria, vizzeria, sì, vizzeria. Poi ho portato un po' di dolce, dolce, cancara mè, cancara mè, cancara mè, cancara mè, cancara mè. Frutta, frutta. Esotica. Esotica, ananas. Ananas. Esotica, ananas. O tutto questo, io lo voglio innaffiare, lo voglio innaffiare, una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Chambai francese. Francese, piper. Piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi, i soldi. Poi te ne che cosa? Compra tutta questa rotta. Ma insomma, c'è una rotta, ma allora è un'abitudine che hai preso. E' una malattia, e tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora io t'ho messo sul piedistallo, l'ho messo. Allora non giù vuoi stare sul piedistallo che t'ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? Io non c'ho un centesimo, signor Barone. Come non c'ho un centesimo? Io non c'ho un centesimo. E allora che mangio io questa sese? La solita mortadella. Sono sei mesi che mangio mortadella. Eccola qua, c'è pure qua.